Cosa succede quando mette l'assorbente? Noi pensiamo che c'è l'assorbente ma è ultra sottile e va tutto quanto bene. Io bastardo, volevo che tre ragazzi mettessero l'assorbente per tutto l'incontro e se avevano il coraggio di fare questo, la persona per la quale coraggiosamente avevano messo l'assorbente vinceva una coppetta mestruale. Ora scegliete voi se ci sono tre eroi del genere che le vogliono mettere durante la pausa pranzo però indicatemi anche l'eroina che gli hanno mandato avanti. Questa era l'idea. Andrea, lo fai per lei? Sì, ma poi lo fai per lei? Sei un eroe, devi dire. Lei come si chiama? Diletta. Irene? No, Diletta. Diletta. Abbiamo il terzo eroe. Però ci scopriva non fa bene. Diletta, accetti di sacrificare Andrea per questa causa. Scusami, adesso arrivo a te ma ci arrivano eroe più alte. No, Simone, lo faccio... Lo fai per? Vitanna. Come? Vitanna. 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 Vitanna più alte. Vitanna. Scusami, veramente. A me il mio condotto lo sforterò sempre, ti capisco, è verifissima. Vitanna, adesso lo ritorrò per sempre. Vitanna, accetti quest'eroe che lotterà per te mettendosi da bastardo. Glieli facciamo bagnare? O glieli lasciamo sempre? No, no, ragazze. No, 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 no. Le ragazze devono uscire. Gli facciamo bagnare? O glielo non uscire? Bagnare! Alzino le mani ben bagnati. Se li asciutti, siete l'amberta, ragazzi. Tu lo ti cambi? Francesco lo faccio per Chiara. Francesco lo fa per Chiara. E' ovvio che non gli chiediamo di metterli qua. Ma Vitanna, Chiara e Diletta... Gli li bagnate voi da bastarde proprio, eh? Però, tipo, che ne so, Diletta li bagna per Francesco e Chiara li bagna per... Mi sono già dimenticato, scusami. Però le ragazze le ho ricordate tutti i nomi, eh? E rimane l'ultimo, che era Andrea. No, Chiara li bagna? Vitanna, perfetto. Quindi avete tre assorbenti notte. Bastardo, che sono... C'erano anche i salvas lì, ma sono proprio bastardo. Ragazzi, qua, prendetevi i vostri assorbenti. Le ragazze, dategli una pre-indicazione di come si fa. Cioè, almeno quello che sappiano... Distinguisci tu. Che sappiano come si mettono. Come prima, non nelle orecchie. Ci tengo a precisare che questi assorbenti qua sono 100% coltone, più dei lavori, compostabili, risultati. Era dove ora? Grazie. Grazie. Grazie a tutti